Ok, allora siamo qui al Motor Days di Roma 2013 e ci troviamo nello stand... Electro City, lo stand che è dedicato alla mobilità elettrica su due quattro ruote. Ok, ci vuole illustrare qualche modello o prototipo, perché tutti quanti sono in commercio questi... No, non tutti, alcuni sono dei prototipi, comunque sicuramente voi avete già visto per strada la Twizy. La Twizy qual è? Quella della Renault, l'ho vista a Milano, di fronte allo store della Ferrari, vicino Piazza Duomo. Avrete visto forse la... Molto bella, guarda in quadra la... Eccola là, quella. Questa è una vera microcar pensata per la città, ha un'autonomia di 100 km, va fino a 80 km all'ora, la parcheggia dove vuole, non paga... Quanto ci vuole per ricaricarla? Questa per ricaricarla? Quante ore? Ma 4-6 ore. Poi siccome la batteria non ha memoria, può ricaricarla anche parzialmente. E 100 km, ma quante ore dura la carica? Questa può fare fino a 1000 ricariche. Questa è un'autonomia di sadologia. Grazie.